I bambini vanno tutelati sempre, ma qui siamo di fronte a una situazione incredibile e cioè che quelli che si battono o dicono di battersi per il popolo palestinese vogliono che ci sia una tragedia del popolo palestinese perché, scusate, oggi è stata Hamas a dire che non vuole aprire il canale umanitario per far uscire la popolazione dalla striscia di Gaza ha ufficialmente detto no, ma altrimenti se ne vanno dalla striscia di Gaza ma in realtà vuole tenerli lì perché se in uno scontro tra un gruppo militare e criminale come Hamas contro l'esercito israeliano vuole che ci sia il massacro più ampio da portare per sempre davanti all'opinione pubblica mondiale questo è il dramma che noi stiamo vivendo quando dicevo prima che i palestinesi, la gran parte dei palestinesi che io non penso siano tutti terroristi ovviamente perché sarei un cretino soltanto a pensarlo ma che in realtà sono usati come uno scudo umano nei confronti di Israele cioè questo gruppo terroristico che è cresciuto dal 1987 che è stato dietro la prima intifada che ha alimentato la seconda intifada che ha scatenato una serie di omicidi e di attentati nel cuore di Israele vuole lo scontro totale tutte aggressioni loro verso Israele certo, aggressioni loro verso Israele vuole lo scontro totale con Israele ed è disposto a pagare un tributo di sangue che non pagano soltanto i terroristi ma lo pagano le famiglie, i bambini le persone che vorrebbero uscire da questa situazione quella è una dittatura islamica che hanno istituito non si vota da... sono saliti al potere nel 2006 quindi non si vota da quanti anni? da 17 anni da 17 anni questa gente con l'illusione di aver cambiato di aver trovato una soluzione per i propri problemi ha consegnato il proprio destino a una banda criminale che è finanziata dai paesi arabi allora